Il Trapani è ripartito e si attende adesso solo a parola al campo che sarà l'unico giudice del futuro della maglia Granata. Ieri sera alla Villa Margherita di Trapani la squadra è stata presentata alla città. Un primo incontro con la tifoseria che da domenica potrà seguire la propria squadra del cuore dopo un anno di assenza dai campi da gioco. Contestualmente alla presentazione della squadra sono state svelate maglie della formazione trapanese. Simbolo dell'identità e del popolo che rappresentano. Il Trapani debutterà domenica pomeriggio sul campo di città di Sant'Agata per la prima giornata del campionato di Serie D. Un ritorno alla normalità che mancava alla sua gente da ben prima della chiusura delle attività della precedente società. Adesso però è tempo di ripartire dal Trapani e dalla sua gente. Una ripartenza anche dal passato con il cuore Granata pronto a battere nuovamente. Un ritorno nel Trapani calcistico che aspettavamo un po' tutti. È un'emozione particolare perché ritornare a vestire la maglia Granata è sempre bello. Che tipo di campionato ti aspetti? Il campionato di Serie D è particolare, composto da tanti imprevisti. Ci sono squadre e campi difficili da affrontare. La società ha attrezzato una squadra organizzata e giocatori di categoria. Cerchiamo di ritagliarci un posto tra le migliori. Non può esserci Trapani senza Dottor Mozzarella. Che emozione è quella di rivedere i suoi colori nuovamente in campo? È un'emozione fortissima e indescrivibile. Stasera noi festeggiamo la rinascita del Trapani calcio, dopo un anno di purgatorio, dopo un anno di assenza dai campi di calcio. Questa sera Trapani si ritrova una squadra, una società e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi. Iniziamo un nuovo percorso, una nuova scalata e che Dio ci aiuti. Ha sempre definito il Trapani una sua creatura. Che creatura è quella che vedrà in campo presto, a partire la domenica? Sarà la stessa creatura che ho visto dal 1975. Certamente con più anni sulle spalle, ma sempre la mia creatura.